ragazzi ho perso molti uomini coraggiosi nuova missione ma il loro sacrificio non sarà stato ma le nostre carri armati formano una linea di metallo così potente che la resistenza tedesca non avrà scambi verrà schiacciata su cui ci vedremo finalmente credo assieme a quei pazzi che proveranno a sbarrarci la strada missione sul carro un classico dei call of duty fare sempre metterci sempre magari su un carro un aereo durante la campagna c'è pure lancia fiamme ora osservate meglio quei verdi a corizzonti saranno i primi a bruciare oggi non mi sto beccato posso mi da vicino di qui ma ho distrutto il carro scappate merda questo li cuocio si di merda non scappate dovete bruciare il carro neanche me ne aveva accorto un colpo serve c'è un trato porca vacca mi ha sparato chi è il vigliacco non lo vedo non lo vedevo comunque è qua il carro è la strada ma il bastardo cagheggia Sì, sto santo Vedo distruggere prima i carri Poi possiamo cazzeggiare Figlio di troia Eh, due colpi, cazzo Non vedo un cacchio Ok Vale Bruciate, merde Bruciate Avrete sicuramente Vinto Il campionato europeo Contro l'Italia, però Cristo Però la guerra la perdete, cacchio Lo che mi faceva di questa missione è che tutte le strutture nemiche praticamente si distruggevano Ah, mezzo In confronto a Vacca la vacca la vacca In confronto a Battlefield Una stronzata da difruzione, però Ma puttana la troia Col cannone Minchia no, non mi rinculo Perchè cazzo mi è sparato Là il bastardo Lo schiaccio stavolta Ah, che bel rumori Anche questo lo schiaccia Fuoco Ma fuoco Ma fuoco te che è Dove è sparito nella star paglia O l'hanno colpito Boh Comunque andiamo Qui mi segna qualcos'altro No Non c'è più Tank di merda Ah Pardoni Ok, truppe amiche Distruggi le terre radie Faccio vedere Questo becca quello E questo Minchia Ma puttana troia Vuoi morire No, guardate Che cazzo di volte Lo devo beccare Vabbè che è frontale Perché è l'azzato No Io mi rinculo A sangue Questi qui Verde La torre è ancora intatta Dio Vi rinculo Ma non avete capito Che vi rinculo Se vi mando a fuoco Bastardi Sì, sì Sparo Sicuramente vi fa i danni Con quel fucile di merda Con quello sì Camuntana E la granata Mi fa danni Oh Di tutto la torre Di riposo Basta parlare Dobbiamo avanzare Pino alla stazione Mi spazio ancora armato Qui Ecco perché Pensavo ci fosse Primo un soldato Che mi ha beccato Con Ma fai Bastardo Non molla Brucia La merda Il casino è solo Entrarli Se potessi entrare Brucirei tutti Alla nostra destra Alla nostra destra Vabbè Si fottano Vabbè Dove è la torre Va 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 Il merdaio Mi ha beccato subito Qua mi inculano Qua mi inculano No Sono bloccato Dai Terra armata Della micchia Avanzi dritto Mi sono stati Indietro Ragazzi Che star di Sfondato Aspetta un secondo Questo Gli scoppio Prima di avanzare Non so se l'ho distrutto Adesso si Si può non romperanno più i coglioni Non vedo un cazzo Distrutto Eh E uno di quelli È la mamma puttana Ve lo dico io Sicuramente Per un cazzo Distrutto Distrutto No Adesso mi è occupato di rilasciarmi Sì Mi è diventato di coglioni Olè Perché E dietro non è così colazzato Chi è il bastardo che mi fa sparando tutta l'ora C'è ma Ma che bastardi Mica Ho meritato di bruciare E' un cazzo Cagheggia Cagheggia Testa di merda torre ciao torre eeeh micchia cosa sparo colpi di pasta frolla un cazzo di camion non riesco a distruggerlo non mi ricordo se è andato a tornare distrugge ma non credo non vedo un cazzo non vedo nulla aspetta 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 oh guardate qua qui è perfetto perfetto per fare piazza punita mi vedo un cazzo se non capisco distruggerli così minchia eeeh oh dio mio cazzo c'è negato questo è un solo tutti i miei compagni sono morti beccato da qui non mi centra ok ok se questi torni le voglio vedere sforire finalmente c'è un altro carramato che ho un pezzo di merda 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 mmm non c'è oh e qui ci prendiamo dei nemici li facciamo bruciare questi pezzi di merda nessuno che spara un missile mi piace questo bastardi ma non ne uccidono anche uno quasi non scappano neanche sono temerari ok guardata ma ragazzi intanto non mi fa un cazzo perché mi tocca fare così ok mi becco cazzo che hanno messo questi cavolo di cosi non riesco a passare per bruciarli un peccato guardate oh oh quasi vale finalmente si ragiona cacchio andate cotti a puntino ah questo povero idiota ho fatto il lavoro di 8.000 persone ma c'è un'altra torre sopravvissuta ah lì sicuramente c'è qualcuno con lanciare benissimi vai che mira ecco lì becco vai oh oh che vai il destino è dalla nostra parte A Berlino i tedeschi vedranno veramente Cos'anno scatenate Mezzo al santo Ai proiettili e ai cadaveri Ho scoperto che un vecchio amico Era ancora vivo Dimitri Petrenko Non li ho contati Ho visto quest'uomo sfuggire alla morte Più e più volte a Stalingrado Finché vivrà lui Il cuore di quest'armata Continuerà a battere Ci rende tutti fieri Leggeri problemi di Muoveva la bocca nel modo sbagliato Ora che abbiamo sfondato le linee Zilov Nulla può fermare l'avanzata dell'armata verso Berlino Ogni giorno che passa Noi ci addentriamo nel territorio tedesco Ogni giorno che passa La paura e la disperazione Arrodono la loro volontà Quando finalmente arriveremo a Berlino Loro non avranno alcun rifugio Ragazzi inseriamente sta per finire anche questo gioco Anche questa serie sta per finire Per il complanno del Führer Una batteria di razzi Katiuscia Devasterà Berlino Con i proiettili Le baionette E a mani nude Voi farete la stessa cosa Ma inconsolta Che armi ho? Questa ferro Non fermatemi Non fermatemi Satelli come riparo Mie Ogni volta che uso un carro come risparro Riparo Come riparo Esplode sempre Tutto un bel comunista Brucciati bravo Cazzo ma dov'è che mi sparano Porca muttana Come il micro Questo azzo Quanto Quanto è potentissimo E' il migliore dei teteschi Cosa che devo fare? Non so se lo riesco a avvicinare Non so se lo riesco a avvicinare No Prima questo Aspetta più colpi Aspetta un attimo Mi panza secco Mi vedo sta qui A fare qualcosa Cacchio No Ma che sparo di nuovo Completato Dai Qual è il mio obiettivo Quale è il mio obiettivo? Abbiamo predato La nostra madre patria senza pietà Cristo Ma cosa vuole essere più lontano? Come sparare a un animale? Muovetevi maiali Guardateci in faccia Codati Maiali Prima Prima lo facciamano loro Adesso lo facciamo noi Commissari Come possiamo avvicinare? Cercocom Con la parcia bruza Cercocom Con la parcia bruza Eccolo la parcia bruza Eccolo la foto bruza Panzerschreck Dal manicomio Paralelatevene Qualcuno l'ho già seccato Tanto abbiamo Fanculo Sto cercando di non farmi seccare Minchia Negli altri pc sono morto Troppe volte Vabbè Quindi un bel confetto ci sta Bastardo Chi è stato? Non voglio che mi ammazzi Uno di questi Gazzi Sto a beccarlo Non riesco a beccarlo Forse adesso si Si Caputa Spagata qua Quelle coglioni Ok È andato Via avanzate Facoceri Ma questa è una Delle missioni Vabbè all'interno Quella del manicomio C'è la modalità zombie No No ragazzi Ho sbagliato Tiro Anzi no Questa Più Un casino L'ultima Stasera Troverò altre Vaffanculo Una Una Caraca Buttana Il caro vecchio Mosi Compagno di avventura Avere Gesù Maria Ok Facciamo così Prendo questo No Voglio fare il pieno di munizioni Ma di nuovo Distrutta Aspetta Andiamo Andiamo Stronzi Questo posto Puzza di incubi E folli Ma solo i pazzi Serebbero Resisterci Continuate a muovervi Ad ammazzare Ecco Sta Missione Sta mappa Interna È della modalità Zombie Da questa parte Di sopra Dimitri Prendi un fucile A pompa Dovremmo combattere A distanza ravvicinata Sentito qualcosa? No Ecco perché Sono sospettoso O avetevi con cautela Compagno Sub Avanzare Comodisti Ragazzi Molto figo Il PPS Questo è un casino Avanziamo così o avanziamo così va? Che Eh minchia Ma non vedo nessuno Ragazzo Qualcuno qui Guarda i bastardi Minchia Non ti ho visto il missile arrivare Pazzone Come ti deciderai Che merda Ma ancora eh Bastardone È una figata Questo mitra Vai 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 Seguitemi Fa un culo la granata E' un po' di E' un po' di A vangolo Altro vangolo Questo è dentro No ragazzo Cazzone Oh grazie Tieni Ciao ragazzo Batteria tedesca in avvicinamento Certamente Vai giù Cazzo 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 E' stato molendo Coraccio Dai Abbiamo quasi conquistato Questo pezzo Di sterco Oh Sto 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 ok voglio andare con i murricani cittadini di berlino un anello d'acciaio circonda la vostra marcia città schiaccieremo tutti coloro che orteranno resistere alla potenza dell'armata rossa questa cosa non la sapevo questa cosa non lo sapevo che si poteva fare la nostra presa intorno al cuore nero di berlino si fa sempre più stretta il Führer esige che tutti versino il proprio sangue per la difesa della città i vecchi, i giovani, i deboli difenderanno la germania moriranno per la germania edificio per edificio stanza per stanza un ratto alla volta un ratto alla volta dimitri sei pronto? si strano, potete facci fare se la missione... toten si mich nicht! chiede pietà non meritate alcuna pietà e pietà avete mostrato per il nostro popolo aspetta aspetta puoi aiutarci? se muore, certo mudak questa non è guerra è assassinio è così che si pone fine a una guerra, certo questa è follia i nostri razzi stanno devastando la città dentro è stato ahahah beh chiii non ho non è vero i russi soldati riusci sempre più a presto come è sempre più a presto è stato un po' di riusci è stato un po' di riusci è stato un po' di riusci che ho dovuto dire il generale? che dovuto dire il generale non si può dire di riusci ma è anche così che è stato un po' di riusci c'è l'arguardo vale devo aver cotto un generale come fietici i truppe questa cosa l'ho sentita all'infinito chi è? oddio ma dove è sbucata con la granata? non era mia la cagata mio mio qui una bella granata ci sta eh uno due tre uno 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 dati posso dover fucile vacca ma siete dei bastardi allora eh la zona è pesantamente difesa doppietta a letto mio laggiù dove? oh ma che c'è no no aspetta aspetta se passo da qua è un giro migliore chiuso la doppietta una figata doppietta vai Reznov calpesta i nemici guarda come subisce no dobbiamo andiamo passare dobbiamo provare sovietici truppe sovietici truppe morto c'è la torta qua giù finito restate giù il fumo fa brutti scherzi ci vedo a malapena respiro a malapena lamentarsi non serve restate giù a Stalingrado Dimitri e io abbiamo strisciato per molti edifici forse lui si lamenta ma sta in muto il protagonista è muto porca muta modo giusto per fare il piazza pulita eh con questa devo avvicinare di più aspetta comunista ma il cadro è top allora di chi non si passa siamo quasi sulla strada chi è proverti si la fine della guerra Berlino si dà un tubo non ha questo ma errore no mi prendo guardate che goduria tutti in fuga c'è ho finito i colpi per tutto minchia quanto c'è sto scrivolando un casino ma tutti i nostri carometri sono abbattuti figlio santo di volta così ok ciao 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 assicuratevi che siano tutti morti finetele tutti spazzate quella feccia delle strade altri che succede quegli uomini stanno cercando di arrendersi guardati intorno Cernoff ready di poter negare a questi uomini la loro vendetta la morte può giungere in due modi rapida o lenta dimitri scegli tu Cernoff dovresti imparare da Dimitri lui sa cosa significa uccidere per te ma solo perché non avevo le molotov cosa mi dice che c'erano lì la morte però vai 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 qua c'è buon amore minchia sono bastardi lì pieno come te non c'è ancora una missione americana c'è strada questo qui a distanza ravvicinata fa partire la draccia vi dico solo questo questo lo vedo le regate no come come e dai gazzo l'ho pugnato due volte Cristo santo ma questi dove ne sono usciti fuori aspetta aspetta saltato beccato guarda non ha il braccio mi sa da qui scusa da qui da qui da te cazzone questo posto sta crolando muoveremo RAPIDI! Dobbiamo trovare un'uscita! La troveremo! Dovrebbe esserci un'uscita dall'altra parte della banchina! Li vediamo lì! Aspettate! Ecco! Un bel rumorino! Avete sentito? Guardate che cazzo succede! Gesù Maria! Piena di grazia! Avanzo con questo! Colpiamoli di nuovo! Il colpino mi mancano tanto! Al prossimo video È bloccato! Respingeteli! pronti guardate il sesso va in fondo esatto è acqua prelevati prelevati